Quando si è veri i cristiani, si vedono delle cose straordinarie. Il Signore permette a delle persone che stanno male di parlare. Non sono loro a parlare, ma è il problema che hanno dentro che parla. Lo permette per ammaestrare la Chiesa, per ammaestrare altri cristiani. Perché altrimenti il problema che ha dentro, diciamo così, non si sgamerebbe. Ma è costretto a farlo perché Dio glielo impone. Mi sono stata capire. Siamo negli ultimi tempi e questo lo sappiamo. Questo ci rafforza nello spirito, ci fa capire che non stiamo scherzando, ma che è tutto vero, che Dio è vero, che Gesù è vero, che il diavolo è reale, che il paradiso. Tutto questo per la vostra crescita, per ammaestrarvi. Facciamo un applauso e diciamo pure noi, grazie a Gesù. E adesso ringraziamo Gesù, godando, dicendo Signore grazie per averci fatto conoscere la verità, per liberarci, per guarirci, per salvarci. Ricordiamoci di tutto quello che abbiamo sentito, circa il peccato, circa l'attività demoniaca, quello che è capace di fare. Ma di fronte all'umiltà, come avete sentito, deve andare via. Ha detto che alcuni pastori erano orgogliosi, e quindi lui in questo caso non va via. Ma quando trova un servo di Dio umile, lui deve andare via. Tutto ciò che abbiamo sentito è conferma di tutto quello che il Signore ci ha fatto conoscere. Quindi poniamo mente, cerchiamo di migliorare. Abbiamo sentito anche che lui entra col peccato. Quale peccato? Ne ha citati alcuni, ma i peccati sono tanti. Quindi attenzione, dobbiamo vigilare su noi stessi e stare attenti. Quando c'è qualcosa, quando avvertiamo qualcosa di strano, confessiamo subito quello che avvertiamo. Affinché possiamo chiedere aiuto alla Chiesa, al Pastore, siamo liberati subito, non lo facciamo crescere dentro di noi. Abbiamo visto che cosa è capace di fare il diavolo, quindi adesso abbiamo più conoscenza. e quindi dobbiamo essere più avveduti. Ci manipola, ci distrugge. se noi non poniamo subito riparo. Abbiamo sempre Gesù della nostra parte che è pronto, è pronto a liberarci. alziamo le nostre braccia e denunciamo al Signore in questo momento tutto quello che non va in noi. il Signore è pronto a farci stare bene. è pronto a farci stare bene. All'inizio è pronto a farci stare bene. Santo, 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 gloria, gloria, Satana tu sei sconfitto nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, resistiamo, resistiamo al diavolo, ed egli fuggirà da noi, oltre preconquire, santo, 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 santo. Spirito di lussuria! Fuori! Lussuria, fuori! Violenza! Spirito di malattia! Fuori! Fuori nel nome di Gesù! 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 Chi sei? Chi sei? Qual è il tuo nome? 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 Come ti chiami? Come ti chiami? Qual è il tuo nome? Come ti chiami? Tutto, va via da lei, vattene via da lei, non puoi più ne stare, fuori, fuori, nel nome di Gesù, obbedisci, obbedisci, obbedisci. Obedisci clever non Don't mistake! Blusa! 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 mi aiuto 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 per questa ragione devi uscire nel nome di Gesù non ti vuole più fuori 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 nel nome di Gesù fuori fuori nel nome di Gesù fuori nel nome di Gesù fuori nel nome di Gesù conto fino a tre uno due preparati a riuscire non ti vuoi più 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 fuori no fuori nel nome di Gesù mi aiuto mi aiuto mi aiuto fuori 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 ho detto due 1, 2, 3, fuori adesso, fuori, nel mare di Gesù, nel mare di Gesù, fuori, fuori. Perché lei fai male, fuori, nel nome di Gesù, fuori, 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 fuori. Ah, 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 ma era sotto il mondo annoula, a tutti i sugeniti, fuori con l'obbligatoria, a tutti i sugeniti, fuori, nel nome di Gesù, fuori, 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 nel No, mi ne so, obriezzi. Obriezzi. La luce, la luce. La luce. Ese è il cammino. Ese è il cammino. Ese è il cammino. Ese è il cammino. E se non te ne vai, te lo sto ordinando nel nome di Gesù. Subito. Uno. Uno. Preparati ad uscire ora. 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 Fuori. Fuori. Esci fuori nel nome di Gesù. Due. Preparati ad uscire. Preparati. Due. Tre. Fuori. 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 Alleluia. 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 Gloria. 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 Alziamo ancora le braccia. Alleluia. Grazie a Gesù. Alleluia. 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 Gloria. Verità e desiderio. Gloria. 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 Alleluia. Alleluia. Gloria. Va via. Rabbia. Dispiacere. piacere, risentimento nel nome di Gesù, fuori, fuori nel nome di Gesù, fuori nel nome di Gesù, fuori, rabbia, depressione, ansia, todos, lailele, droilele contraidestis, todos, lailele santos, santo, 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 aiutatela ad alzarsi, dole, guai desi, on tu, guai desi, vieni avanti se hai problemi, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, tu vieni avanti se hai problemi, tudi, giù, tono, lailele, se hai qualche problema, vieni avanti, dolar, roides, santo, 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 dore le roghe laibri di santos, santo, 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 fuori 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 nel nome di Gesù santo 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 santo, 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 santo oh, hey, sono santo, santo, santo I know you love me, your holy presence surrounding me. In every season, I know you love me, I know you love me. At the cross I bow my knee, where your blood was shed for me. There's no greater bond than this. You have overcome the grave, your glory fills the highest place. What can separate me now? You go before me, you shield my way. Your hand upholds me, and I know you love me. At the cross I bow my knee, where your blood was shed for me. There's no greater love than this. You have overcome the grave, your glory fills the highest place. What can separate me now? You have overcome the grave, your glory fills the highest place. What can separate me now? You tore the grave, you made a way. When you said that it is done. You tore the grave, you made a way. When you said that it is done. When you said that it is done. I think we set that to you alone. The魔法 Janor, the Holy Spirit says to you all you know, He okoo. The Doom that he acquisits for you all al life. Elola Elchai, lode al Tuo nome, Alleluia. Solo Tu sei il Signor, Elohim, Elohim. Regni per sempre, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Finché vita, finché esisterò. Fuori, fuori ansia nel nome di Gesù. Fuori, fuori, fuori. Alleluia, fuori, fuori, fuori. Quelle stabile, fuori. Fuori, fuori, fuori. Buonanitico. fuori 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 nel nome di Gesù fuori foto fino a 3 1 1 1 3 fuori 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 nel nome di Gesù eterno creatore fuori 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 Tu sei il mio canto, solo in te gioirò, mio liberatore. Come ti chiami, come ti chiami, come ti chiami, come ti chiami. Come ti chiami, come ti chiami, come ti chiami. Come ti chiami, come ti chiami, come ti chiami. Nel nome di Gesù, nel nome di Gesù. 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 Tu resta a mio fianco, io ti aiuterò, combatterò contento, non temerai. Fuori, fuori. Non aver paura di lottare, niente può colpirti. Segui la mia mano, nel nome di Gesù, segui la mia mano e raggiungi la sua bocca. Ora, ora, vieni fuori. Segui la mia mano, vieni fuori ora, ora in questo istante. Attraverseremo insieme ogni cosa, aspetterò con te la fine della prova. Non temere nulla, io sarò al tuo fianco, con la mia mano ti rialzerò. Allora, per farò fare qualcosa. Farai ogni cosa, solo se avrai fede. Resterai in piedi se combatterai. Tu resta a mio fianco, io ti aiuterò. Combatterò con te, tu non temerai. Ci saranno giorni accesi e giorni pur. Ti aggiungi la bocca adesso? Ma io ti abbraccerò, in questo momento, in questo istante. Fuori la la bocca, fuori la la bocca, fuori la la bocca. Proprio quando sono qui con te, tu vinci per me le mie battaglie. Proprio quando sono qui con te, tu vinci per me le mie infermità. In te, Dio, io trovo la forza per non gettare la spugna, perché Cristo ha donato il suo sangue. In te, Dio, io trovo la forza per non gettare la spugna, perché Cristo è in me. Tu sei la forza nella debolezza, sei la speranza del cuore mio. Tu sei la certezza in un mondo che è senza, tu sei il mio Dio, non dubito. Proprio quando sono qui con te, tu vinci per me le mie battaglie. Proprio quando sono qui con te, tu vinci per me le mie battaglie. Maggia, eccessione, e eternità. Absolutamente, esfermità condanniamo nel nome di Gesù. Nessun nome di Gesù. Lasci la stare, non mi senti più! Mi trovo la faccia, per noi ci dare la sfuglia, per me è felice! Stai lì, stai lì! La giuntina posta, la giuntina posta! La giuntina posta! Vedo! Sì! Vigilante! Sì! Vigilante! ... ... ... ... ... no se Gesù tu sei con me chi sarà contro di me se tu Gesù sei con me fincherai su dove se Gesù tu sei chi sarà contro di me Se tu Gesù tu sei con me, chi sarà contro di me? Se tu Gesù sarai con me Io vincerò comunque E se Gesù tu sei con me Chi sarà contro di me se tu Gesù sarai con me Io vincerò comunque E se la voglia sei la debolezza Sei la speranza del cuore mio Alleluia al Signore Dighi alleluia al Signore Alza le braccia verso di Lui Alleluia, grazie a Gesù Basta così, basta non stare ora Continua a dire alleluia Alleluia a Gesù Alleluia a Gesù Alleluia a Gesù Alleluia Gesù, Alleluia Gesù, Alleluia Gesù, Alleluia, Grazie Gesù, Grazie Gesù, Santo Gesù. Se per la fede camminerò, io ti vedrò. E se la buona battaglia combatterò, io vincerò. Ed il mio premio sarei tu, Gesù, ed il mio premio sarei tu, Gesù. Io vincerò la corsa, io vincerò la corsa, io vincerò la corsa, io vincerò la corsa. Se per la fede camminerò, io ti vedrò. Signore, se la buona battaglia combatterò, io vincerò. Ed il mio premio sarei tu, Gesù, ed il mio premio sarei tu, Gesù. Io vincerò la corsa, io vincerò la corsa. Io vincerò la corsa, io vincerò la corsa. E la mia coppa sarei tu, Gesù. E la mia coppa sarei tu, Gesù. La mia coppa sarei tu, Gesù. La mia coppa sarei tu, Gesù. L'eredità sei tu, Gesù. L'eredità sei tu, Gesù. Io vincerò la corsa, io vincerò la corsa. Io vincerò la corsa. Chi sei? Chi sei? Chi sei che la tormenti? Nel nome di Gesù rispondi. 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 Nel nome di Gesù. Allora entra nella gioia. Entra nella gioia. Entra nella gioia. Nel tuo Signore. Io arriverò alla meta. Io arriverò alla meta. Io vincerò la corsa. 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 Qual è il tuo nome? Qual è il tuo nome? Qual è il tuo nome? Tudas. Iguere. Froc. Blui. Infro. Oscul. Entiope. 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 Tos. Fuori. Fuori. Fuori nel nome di Gesù. Fuori nel nome di Gesù. Te lo sto ordinando nel nome di Gesù. Fuori. 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 Gesù è il più forte. Non tu. Gesù è il più forte. ci sei ci sei Gesù è il più forte fuori, fuori nel nome di Gesù fuori, fuori fuori, fuori 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 non posso non posso lasciarti stare fuori da lei nel nome di Gesù ti prego da quanto sei lì? da quanto sei lì? da quanto? da quanto? da quanto sei lì? te ne devi andare nel nome di Gesù lei è una figlia di Dio ora non ti vuole non ti vuole più è una figlia di Dio va via nel nome di Gesù vattene via nel nome di Gesù è una figlia di Dio non ti amo oh mio signore fuori 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 Fuori, fuori, fuori nel nome di Gesù, fuori, Franco vieni fa sola, fuori, 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 Chi sei? Chi sei? Tu hai perso, hai perso già, perché la tormenti? Perché la tormenti? Nel nome di Gesù rispondi! A come si chiede a lui? fuori lasciala stare fuori fuori lasciala stare lasciala stare punto fino a 3 1 preparati ad uscire 2 preparati ad uscire 3 fuori 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 nel nome di Gesù fuori 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 Fu, 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 nel nome di Gesù, nel nome di Gesù. Sì, 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 sì. 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 Ancora, ancora, nel nome di Gesù si libera, ancora, si libera nel nome di Gesù. Forza, forza, nel nome di Gesù. Muovi il fascino, dai. Muovi il fascino, dai, le spalle, forza, nel nome di Gesù. Muovi il fascino, dai, le spalle. Cercatelo, 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 mentre si trovi. Cercatelo, 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 mentre si trova. Lui ricompensa colui che lo cerca e dà la vita a colui che lo prova. Colui che cerca Dio, lo trova ancora oggi, avvicinatevi, come si fa ad un amico. Fuori, 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 fuori nel nome di Gesù. Fuori, fuori nel nome di Gesù. Lui ricompensa colui che lo cerca Ci sei? Come ti chiamo? Nel nome di Gesù, nel nome di Gesù Nel nome di Gesù, fuori 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 mi convenza colui che cerca di dare a vita a colui che lo trova colui che cerca di trova ancora oggi avvicinatevi come si fa con un amico alziamoci ringraziamo il signore grazie Gesù, alleluia facciamo un bel canto santo, santo, santo alziamo le braccia e facciamo un bel canto come potrei stare lontano da te sei tutto ciò di cui ho bisogno come vorrei vederti adesso davanti a me porca il cielo in questa stanza grazie a tutti Io voglio il fuoco nella vita mia, riempimi di te, io sono qui, portami nella tua gloria. Nella tua gloria, io voglio di più della tua presenza, perché c'è di più e il mio cuore grida. Ho fame di te, fammi vedere la tua gloria. La tua gloria, la tua gloria. E anche questo luogo, anche questo luogo è la tua gloria. Amen. Grazie Gesù. Anna Maria, il fratello viveva un dormendo per quest'ansia che praticamente lo tormentava continuamente, di giorno, durante il lavoro, a casa. In effetti era una situazione triste, terribile. Per cui questa sera Gesù, dopo che tu lo hai ministrato, lo ha liberato dal tutto. Lui sente una perfetta liberazione. Sento proprio un cuore, sento... Sereno, ti senti, libero. Non un po' satteso, non assolutamente. Molto sereno, molto, molto sereno. Facciamo una pace. Da dentro. Esce da dentro. Ok. Grazie Gesù. Anna Maria, Ettore ha avuto una reazione nel momento in cui tu hai detto, dichiarate i vostri peccati. Lui era un po' di tempo che si arrabbiava per niente, scattava, quindi ha avuto questa reazione. Sì, infatti, quando tu hai detto, denunciate i vostri peccati, chiedete perdono, io ho elencato tutti i peccati, ho chiesto perdono. E in quell'attimo, diciamo, ho sentito le gambe come se mi tremavano e il corpo che si muoveva, però non riuscivo ad avere controllo. Poi dopo la preghiera è continuata. E tu hai detto, venite avanti se avete problemi. Qualche problema. Qualche problema. E sono venuto avanti e ho avuto la reazione. Però comunque erano un po' di tempo che mi capitava di arrabbiarmi subito. Lo facevo, magari urlavo anche, poi l'attimo dopo dicevo, mi sono arrabbiato per nulla. Quindi erano magari degli scatti che avevo, però non erano sotto il mio controllo, perché l'attimo dopo che l'avevo fatto, me ne rendevo conto che avevo sbagliato. Ok, grazie Gesù. Allora, tu durante la preghiera hai menzionato il dispiacere. La sorella ha iniziato a piangere. Al che è venuta davanti, tu hai imposto più volte le mani, le ha avuto una lievele azione, dopodiché il Signore l'ha liberata dal dispiacere. Grazie Gesù. Anna Maria, la sorella dal momento della conversione ha avuto tanta gioia nel leggere la parola, però via via poi si è accorta che avveniva un disturbo continuo, costante, per cui lei non riusciva a leggere la parola. Tanto perché si distraeva lei come iniziava a leggere la parola, oppure succedeva qualche cosa in casa per cui la impedivano di farla meditare la parola. E quindi questo ti faceva dispiacere? Sì, l'ho capito quando abbiamo visto il filmato, cioè di questo che ha disturbo, che avevo questi disturbi. Cioè dal filmato ho capito che... Si è ricordata praticamente. ...che mi sta succedendo, dico allora io sono disturbata da qualcosa. Quindi adesso come ti senti? Adesso dopo che mi hai imposto le mani mi sento più libera, il finale della preghiera l'ho accolto di più, ma man mano vedrò collegere tutti i giorni... Vedrai il risultato e ci confermerai. Grazie Gesù. Allora, quando tu hai iniziato insomma ad elencare alcune problematiche, tra cui l'ansia, lei ha iniziato ad avvertire alcuni dolori alla pancia, come se qualcosa la tirasse. È venuta dinanzi però nel frattempo ha iniziato a mettere dei fazzoletti di olio benedetto, quindi nel frattempo diciamo la preghiera già stava facendo il suo effetto. Dopodiché tu le hai imposto le mani e il dolore è scomparso del tutto. Toccati un poco. Sparito? Grazie Gesù. Anna Maria, la sorellina era un po' di tempo che sentiva un senso di oppressione, però sentiva anche un senso di fallimento. Tutto, tutto quello che lei faceva, aveva desiderato, era tutto fallito, anche con Gesù ha detto. Mi sembrava di aver perso tutto. Tutto dipende da noi. Quindi non si fallisce con Gesù se noi non vogliamo. E adesso come ti sei? Mi sento più libera. Più libera, grazie Gesù. Invece la sorella Anna Maria è stata liberata questa sera da un problema di distruzione economica. Erano più di cinque mesi che lei stava incominciando ad entrare in questa fase così brutta per quanto riguarda le sue finanze e le sue economie. E stasera tu hai confermato che Gesù l'ha liberata. Io ringrazio te Anna Maria. Alla signora. Alla signora. Alla signora le ringrazio. Grazie Gesù. Io ho chiesto, tutta la settimana ho chiesto al signora di ripararmi. Da tutte queste cose che mi tormentano e poi dalla distruzione economica. E adesso perché stai piangendo? Perché sono contenta. Quindi piangi di giorno. Sì. Grazie Gesù. La sorella è stata guarida dall'ansia, dai dispiacere e dagli attacchi di panico che aveva da diverse settimane. Io già venendo qui. Era da una quindicina di giorni che ero sempre nervosa. Mi venivano gli attacchi di ansia. Tanto è vero che un paio di volte da lavoro ho dovuto chiedere delle ore di permesso per andare via. Durante la notte mi venivano e mi attanagliavano la schiena. Già arrivando qui in macchina io iniziavo a tremare. Abbiamo visto il filmato. Ci ha invitato ad alzarci a fare mente locale di tutti i peccati e di cacciarli fuori. Mi è venuto un dolore atroce allo stomaco come se qualcuno mi avesse dato un pugno. Quando ci ha invitato ad arrivare a venire avanti mi ha imposto le mani nel nome di Gesù. Il Signore mi ha toccato. Grazie Gesù. Allora ci alziamo Gesù Gesù Grazie a tutti.